Nell'ottica di fornire mascali di tutta una serie di servizi fondamentali, soprattutto nella stagione estiva, quando maggiore il numero di residenti, in particolare a Fondachello, l'assessore alle politiche sociali Virginia Silvestro ha messo in atto tutta una serie di iniziative nell'ambito di un circuito salute che accuore il cittadino con l'obiettivo di tutelarlo a 360 gradi. Fra gli step completati, il più recente è la postazione decentrata della Guardia Medica Turistica. Abbiamo pensato con l'amministrazione, il sindaco e più tutti gli impiegati che hanno lavorato insieme a noi di poter gestire soprattutto un programma che riguardasse proprio la salute del cittadino e di quello che è stanziale naturalmente anche del flusso turistico che arriva ad oltre 25.000 utenze circa. Perciò la Guardia Medica Turistica l'abbiamo voluta fortemente decentrata, perciò a Fondachello, perché era inizialmente messa insieme al 118 e alla Guardia Medica Continuità Assistenziale nella parte centrale del paese. Fortunatamente con la collaborazione del direttore sanitario del dottore Pennisi abbiamo potuto instaurarla presso il plesso scolastico che è assolutamente nuovo, climatizzato, per cui anche come ambiente va bene sia per il medico di turno che per il turista. Oltre a questo abbiamo anche sistemato delle pedane, non solo per i gravi disabili, ma anche per chi ha delle disabilità e perciò ha delle difficoltà per accedere alla spiaggia. Abbiamo messo i bagni chimici, rallentato sulla via spiaggia per evitare proprio tutto quello che potesse creare qualche disturbo, qualche disagio, qualche problema in quella zona. Zona che per noi è anche importante dal punto di vista commerciale. Come Assessore al Commercio devo dire che ringrazio tutti quelli che lavorano in questo periodo e che danno lavoro. D'altra parte tutti i comuni per ora siamo i comuni del nonostante. Nonostante tutto andiamo avanti. Però penso che sia importante, importante perché non deve essere curato solo il cittadino, che è comunque il nostro bersaglio principale, ma anche il turista che dà una certa pubblicità e la pubblicità di un posto bello, accurato e curato è per noi molto molto importante perché dietro c'è un sacco di lavoro, veramente dovuto anche in abbinamento all'apertura di una farmacia. sarà inaugurata giovedì che completa questo circuito insieme a quelli che saranno tutti gli appuntamenti che noi vorremmo fare. Abbiamo iniziato col diabete e continuerà con altre patologie.